Amici di Entomologando bentornati in questa prima puntata di curiosità viventi di questo 2016 questo oggi vi parlo di come nasce un'ape sicuramente nei mesi scorsi avrete visto su Facebook un video molto virale della National Geographic Channel che mostrava il processo di nascita di un'ape questo oggi lo guardiamo insieme e ve lo spiego iniziamo questa è una larva di ape che esce dall'uovo queste larve appena nate nuotano e si nutrono di un liquido che le api nutrici sacernano per loro poi man mano che si trasformano in pupe la testa e le zampe cominciano a differenziarsi e le api cominciano a prendere forma ecco lo stesso processo visto dall'alto si notano anche degli acadi che corrono tra una cella e l'altra nella fase successiva i tessuti si riorganizzano nel corpo e si sviluppano lentamente anche i pigmenti negli occhi nell'ultimo passaggio la pelle si ranglissisce e spuntano i peli ed ecco nata l'ape e immessa nella sua siccità che include tre casse, l'ape regina, le ape operaie e i maschi letti futi nell'arco della sua vita che dura dai 30 ai 180 giorni l'ape operaia svolge diversi compiti nei primi giorni di vita l'ape è una pulitrice, una nutrice, una magazziniera, una bottinatrice e una ventilatrice dopo i primi 21 giorni che si atrofizzano le ghiandole che seccernano la cera l'ape diventa una raccoglitrice raccoglitrice di polline, raccoglitrice di nettare, di acqua o di propoli vi invito a guardare il video che ho caricato qualche giorno fa di buon 2016 che vi spiego dove punto con entomologando per questo nuovo anno come avrete notato ho cambiato sfondo sono delle mie foto che ho stampato con piacere qualche giorno fa siamo giunti a conclusione anche di questa puntata vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto e un commento qui sotto iscrivetevi al canale cliccando qui dietro vi dico l'ora di seguirmi anche sulla pagina facebook e sul blog trovate tutti i link in descrizione un saluto da Ludovico Cataldi e ancora buon 2016 vi invito a guardare il video